Si svolte un importante incontro operativo presso l'ospedale di Trebisacce alla presenza del sindaco Franco Mundo, del responsabile dell'area tecnica dell'ASP l'ingegnere Antonio Capristo, del gruppo l'ingegnere Maria Rosaria Pisani, del direttore dei lavori l'ingegnere tedesco, del dottore Laviola e del dottore Adducci, oltre ai tecci di Invitalia incaricati della gestione dell'appalto e dei lavori, hanno partecipato anche i rappresentanti delle imprese appaltatrici coinvolte, sia nella ristrutturazione del pronto soccorso, sia nelle opere relative alle sale operatorie. Il commissario ad acta, la dottoressa Doria Di Francesco, è intervenuto in collegamento. Durante l'incontro, il sindaco Mundo ha ribadito con forza l'urgenza di avviare i lavori, specialmente alla luce della variante già affidata da Invitalia a un gruppo di ingegneri della società TEFA. Il sindaco ha sottolineato come, nonostante l'ordinanza del Consiglio di Stato, i lavori siano in ritardo e necessitano di una rapida accelerazione per garantire il pieno funzionamento della struttura ospedaliera. L'ingegnere Capristo ha confermato la volontà dell'ASPE di procedere con urgenza all'amodernamento del pronto soccorso e alla ricostruzione delle sale operatorie, sottolineando che nei prossimi giorni verranno presentate le modifiche progettuali necessarie a fronte delle criticità emerse riguardo ai pilastri al soffitto delle sale. Il sindaco Mundo ha infine ringraziato tutti i partecipanti per il loro impegno, esprimendo riconoscenza al direttore generale dell'ASPE, l'ingegnere Capristo, al dottor Lavioli e al dottor Aducci, nonché al presidente della regione, Roberto Chiuto, per il costante sollecito a favore del completamento dell'ospedale e dell'avvio delle attività ospedaliere. Grazie a tutti.